Settembre è il mese del ritorno a scuola e allora diamo il via a questo festival mensile dedicato a bambini e ai ragazzi e ai loro genitori per scoprire e conoscere i rischi che si corrono quando si va in classe dalla viva voce di medici, oculisti e altri esperti. Buona visione! Grazie!